il compromesso arrivo a casa trafelato stasera gioca la nazionale son parecchio emozionato la partita vale il mondiale sul rai 1 mi sintonizzo ma la mia moglie s'avvicina proprio ora lo schiribizzo vuole fare una sveltina stanno dando le formazioni con bonucci cecchiellini lei mi strofina i pantaloni e mi fa un po di grattini bisogna battere la francia se ci si vuol qualificare lei mi monta sulla pancia ed inizia a mugolare stasera no ti prego amore c'è l'italia non ho voglia ma la sento tutta a bollore e in un attimo si sfoglia oramai ha perso il controllo gioca immobile e belotti lei mi bacia tutto il collo e poi inizia coi succhiotti non affreni vuole l'amplesso al mio membro si avvicina allora le chiedo un compromesso di far l'amore a pecorina la tua schiena voglio vedere voglio afferrarti per la vita e mentre faccio il mio dovere guardo anche la partita grazie 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 grazie